Con questi ragazzi abbiamo fatto dei piatti che possano interessare per la loro territorialità, stagionalità e soprattutto molto per la loro storia e cultura marchigiana. Abbiamo messo insieme per esempio la cicerchia con le mazzancolle, abbiamo fatto i frascarelli con le erbe di campo e le canocchie e le seppie nere, abbiamo riempito le seppie con la mozzarella di bufala e i pinoli, diverse preparazioni, un'altra in cantiere adesso per esempio sono i maccheroncini di campo filoni e con alici e tartufo. Oppure stiamo improntando anche un risotto con finocchio bianco, finocchietto selvatico e mazzancolle. In questi piatti trovano un meraviglioso sapore che è quello delle marche che non hanno trovato in altre parti d'Italia. I sapori più caratteristici della cucina marchigiana è come dire breve cenni dell'universo, abbiamo tanti sapori interessanti. Sicuramente per quanto riguarda il pesce il piatto tipico che può rappresentare può essere anche il brodetto, anche il brodetto dico perché è comunque una zuppa diversificata nella nostra regione in pomodoro, pomodoro, peperone e zafferano oppure pomodoro verde e aceto a seconda del nord, sud e centro delle marche. Questo l'abbiamo fatto anche con i ragazzi in Italcook. Poi noi stiamo parlando di pesce per quanto riguarda le carni sappiamo che comunque i nostri profumi dalle erbe aromatiche tipici dal rosmarino all'aglio alla maggiorana. I non marchigiani amano le nostre lasagne in ogni loro espressione, in ogni versione, è vero, bianche, rosse, turchine con il pesce, con la carne storiche o anche avanzate. Amano molto le lasagne, le paste sicuramente, amano i nostri animali ripieni senza dubbio. Ciò che interessa di più è scoprire questa ricchezza di profumi in ogni dove, di sapore vero, autentico. Grazie. Grazie.